e buongiorno e sono tutti grazie e benvenuti in questo nuovo video qui è pablo giallorosso ciao a tutti ho mandato il natale tutto bene avete mangiato si sentite non penso non lo so in sottofondo la lavastoviglie ecco è una prova che abbiamo mangiato tanto veramente tanto sono qui per augurare un buon natale questo è il primo video che esce appunto dopo questa festività non ho fatto altri video perché a natale uno deve stare con la famiglia in compagnia perché questa è la magia del natale qua c'è il mio albero di natale e la magia del natale però arriva anche a voi e anch'io sono qui per offrirvi la magia del natale che è una promozione fatta apposta per te cos'è together price together price tanto sentite che pronuncia inglese ragazzi questo 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 vale solamente il prezzo del like perché io che mi sto impegnando a pronunciare una frase una parola in inglese ecco è tanta roba quindi cos'è together price è la piattaforma che ti aiuta a creare il tuo gruppo di amici familiari colleghi coinquilini con il quale condividere la spesa dei tuoi abbonamenti netflix da solo spotify apple music e nintendo switch sono solamente alcuni no alcuni esempi e la cosa grandiosa è che together price raccoglie per te tutti i soldi prelevandoli direttamente dalla carta del tuo gruppo senza che tu faccia qualcosa in più cioè non c'è bisogno che tu faccia altre cose tu non si deve preoccupare ma come funziona together price ecco puoi usarlo in due modi joiner o admin ecco se hai già un abbonamento puoi mettere a disposizione i posti liberi che tu non usi ogni mese riceverai direttamente le quote dal tuo gruppo e con i soldi raccolti pagherai direttamente le quote del servizio ad esempio da zone oppure netflix se invece non è un abbonamento puoi partecipare ad un gruppo già attivo e inviare ogni mese la tua quota l'unica cosa da tenere veramente conto è che ogni servizio ha i suoi termini di uso perché la condivisione tra sconosciuti non avviene in nessun caso together price ha previsto di catalogare ogni collegamento tra gli utenti in uno specifico livello di relazione che appunto dispecchia gli ambiti richiesti dal provider stesso cioè in base al tipo di relazione che lega ai vari utenti questi ultimi possono condividere o meno dei servizi nel pieno rispetto dei termini di uno dei servizi stessi ma adesso entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere con un video in cosa consiste concretamente e più nello specifico questa promozione la magia del natale di together price speciale danzone il natale si avvicina e come tutti gli anni i regali sono sempre un'incognita che ci porta via tempo ed energie non sappiamo cosa regalare i nostri amici e dall'altra parte dobbiamo sempre far quadrare i conti regalare qualcosa di gradito spendendo poco è un'impresa dir poco ardua quest'anno però together price lancia una promo di natale chiamata la magia del natale perché ci permette di fare regali senza spendere nulla ecco hai capito bene potrai regalare a chi desideri un mese di condivisione dell'abbonamento da zon per seguire la tua squadra del cuore ma anche netflix per guardare i film e serie tv spotify per ascoltare i migliori brani del momento ma la notizia migliore è che tu non spenderai un euro sarà together price infatti a pagare per te la quota che vorrà regalare al tuo amico ecco per completare tutto ciò di cui oggi abbiamo parlato di questa promozione che appunto vi stiamo offrendo come regalo di natale basta semplicemente passare in descrizione cliccare il link e compilare il forno basterà poi solamente ricaricare la pagina per inviarlo a più persone allora ragazzi penso che questo video possa finire qui vi rinnovo ancora una volta gli auguri di natale mi raccomando questa è un'accasione importantissima appunto anche come regalo natalizio stiamo in tema quindi penso che questo video possa venire qui già l'ho detto ma lo ribadiamo la popolazione questo è tutto lasciate un like, un commento, iscrivetevi, adios